Con grande rammarico, dopo più di mezz'ora di attesa, infatti, davanti alla stanza del primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli, c'è stato poi riferito che l'intervista non ci sarebbe stata. È stato il Sinaco in persona a scusarsi telefonicamente per l'equivoco che avrebbe confermato in un primo momento l'incontro con TV Oggi, poi rifiutato. Oggi, come mostrano le immagini che siamo riusciti a registrare durante l'attesa per l'intervista, è tra l'altro in programma la seconda riunione dell'Aggiunta Comunale, senza però che sia data la possibilità alla stampa di sapere di che cosa si discuterà, quali sono le programmazioni future della squadra che dovrà accompagnare il Sindaco di Salerno nel suo lavoro di guida della città di Salerno. Una città che sembra però allo sbando, ferma al palo, paralizzata dall'inchiesta giudiziaria. Vincenzo Napoli, che risulta tra i 29 nomi nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta con la quale la Procura di Salerno deve fare luce sui rapporti tra l'amministrazione comunale e le otto cooperative sociali che curavano una serie di servizi per conto del Comune di Salerno, come la manutenzione del verde pubblico e i parchi urbani, ha chiesto ancora dei giorni di tempo prima di poter riprendere il confronto con gli organi di stampa. Non volevamo entrare nel merito dell'inchiesta giudiziaria, attendendo che sia la magistratura a giudicare e a fare chiarezza, ma da cittadini, prima che da giornalisti, ci farebbe piacere sapere dal primo cittadino come si andrà avanti nei servizi che al momento sono fermi, proprio a causa dell'inchiesta, cosa succederà ai 150 lavoratori, su quali opere si concentreranno le priorità di questa amministrazione comunale, quando aprirà il parcheggio di Piazza della Libertà, quali sono i dati relativi al Covid per il Comune Capoluogo e se, da un punto di vista politico, questa giunta riuscirà ad andare avanti anche senza la presenza di un assessore progressista. Forse un giorno, perché noi abbiamo fiducia nelle istituzioni così come nella magistratura, riusciremo ad avere una risposta.